Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio Innanzitutto risistemiamo le truppe Uno Due Risistemiamo gli eserciti Qua ne mancano due Quindi facciamo Uno e due con Artas E voi tre qua No Non ho capito Solo Solo voi due con Artas Voi tre qua Così facciamo due gruppi Uno E due Che uno rimane un fante fuori E andiamo a vedere cosa succede Calma 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 Andate bene La curiosità vi porterà alla morte Sei tu il responsabile della piaga negromante Questo culto è opera tua Già Ho creato il culto dei dannati per spargere la piaga da verso il grano Ma non è tutto merito mio Che vuoi dire Sono solo un servo di Malganis Il signore delle tenebre Egli comanda il plagendo che ripulirà questa terra Stabilendo un paradiso di oscuità eterna Da cosa dovrebbe liberarci questo plagendo? Dai Ci andrò Ci andrò Adesso però ti schiatto prima tutti I tuoi bastardi Esseri che hai creato Missione principale compiuta Missione principale Affronta Keltuzad Trova Keltuzad E andiamo a trovare Keltuzad Devo distruggere questi Devo distruggere I granai infetti Oh oh Ok No qua Qua Ti voglio vedere qua che ci sta Spassiamo tutti i gruppi Oh 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 Attaccate Attaccate Ok Vabbè qua è il ponte Che si ricollegava a loro Adesso Andiamo qui Mi sa che qui c'è Keltuzad Qua che ci sta Aspetta Ah qua c'è Qua mi sa c'è un altro Cosa Mercato Goblin Mercante Goblin Che cosa Può vendere mai Mercante Goblin Qui A questa porzione di guarigione C'è stata Qua 100 punti ferita La stessa cosa di quello Niente di interessante Quindi andiamo Sto cercando di pensare Sto cercando di pensare Oh cacchio Guarisci Qua ci spariamo Proprio questo Cioè Guarisci Tu 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 Che sei per morire Vieni qua Ok Distruggete Questo coso Il mattato Io mi sa Si chiama Ecco Keltuzad Uccidete Keltuzad Su su Missione principale Che compiuta Affronta Keltuzad Vittoria Continua Ok ragazzi Io direi che Anche questo episodio Può finire qui Sarà durato Meno del solito Forse Non lo so Però abbiamo finito Il capitolo Quindi direi che Può finire qui E noi ci rivediamo A un prossimo episodio Ciao